Sabato 11 novembre alle 18, nel Salone d'Onore di Villa Marazza, Ben Pastor presenterà il suo nuovo romanzo edito da Mondadori La Morte delle Sirene. Un'indagine di Elio Sparziano e ne parlerà con la scrittrice Francesca Battistella. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria Il Dialogo. L'autrice, scrittrice italo-americana, all'anagrafe Maria Verbena Volpi, nata a Roma ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti. Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.